Stasera vorrei proporvi la lettura del libro scritto da Vincenza Alfano, La guerra non torna di notte, edizione Solferino, un libro molto bello che parla di donne. Lo fa attraverso il racconto della storia della nonna della nostra autrice, tale Cenzina. Cenzina è una giovane ragazza che vive con la madre e con il fratello e un giorno la madre che ha perso il marito da un po' e fa molta fatica a portare avanti la propria famiglia pensa di risolvere questo problema dando in affido o meglio in adozione sua figlia Cenzina allo zio Bernardino che ha una situazione economica sicuramente più florida della sua. La scelta ricade sulla figlia femmina perché le spese per poter sostenere una figlia femmina sono sicuramente maggiori rispetto a quelle necessarie per mantenere un figlio maschio che quanto prima troverà un lavoro e diventerà egli stesso un mezzo per sostentare, per sostenere la famiglia. Questa scelta viene vissuta dalla nostra protagonista con grande sofferenza come è facile immaginare. Questo senso di abbandono accompagnerà Cenzina per tutta la vita anche se avrà una vita agiata, una vita che le consentirà di suonare il pianoforte e di sperare fino a un certo momento della sua esistenza di poter diventare una concertista. Ma quando arriva il momento di maritarsi come si era solito dirsi, i suoi sogni verranno infranti. La scelta ricade su un giovane pasticcere Pasquale che ha da sempre lavorato, è un bravo ragazzo e soprattutto ha una situazione economica davvero invidiabile. Ma Cenzina capisce subito che il suo desiderio, la sua aspirazione artistica verrà sacrificata. Infatti non si sbaglia. Pasquale e Cenzina sono due giovani che non hanno nulla in comune. Come dice lei stessa nelle pagine di questo libro, dovrebbero trovare un modo, un percorso, una strada per poter riuscire a comunicare tra loro. Ma questo non avverrà mai. Anche se nasceranno due belle bambine, Sofia e Anna, Cenzina sarà sempre una donna infelice. In un certo qual modo anche Pasquale non troverà mai nel matrimonio una compagna che lo farà sentire veramente accolto, nella misura in cui Cenzina non è innamorata, non è neanche soddisfatta della sua vita. Come tante donne di quel periodo. Sullo sfondo la seconda guerra mondiale, ma nello stesso tempo anche grandi cambiamenti. L'8 settembre c'è la firma da parte di Badoio con Eisenhower dell'armistizio e il 9 settembre gli alleati che stanno risalendo la penisola sbarcano a Salerno. Indugiano nell'arrivare a Napoli e in quei giorni di attesa il popolo napolitano è sottoposto a una serie di angherie e di violenze da parte dei tedeschi. Infatti il Führer non ha accettato la sconfitta con facilità e quindi ha ordinato al suo colonnello Schul di seppellire Napoli e quindi i napoletani. Iniziano i rastrellamenti, le uccisioni possiamo dire più efferate. Ed è quello il momento in cui nasce nei napoletani, soprattutto nelle donne napoletane, un modo di insorrezione che culminerà nelle quattro giornate di Napoli. Ma quello di cui si parla sempre poco è del fatto che all'insorrezione parteciparono attivamente e con grande spirito di sacrificio, anche di spirito di sostegno, le donne napoletane e tra queste anche Cenzina, che in questa occasione, come tante donne come lei, ritrovano la consapevolezza delle proprie scelte, la consapevolezza di essere persone, di avere il diritto e la volontà di esprimersi e di esporsi pubblicamente e di non vivere una vita che le vede relegate esclusivamente all'interno del focolare domestico. Quindi un bel libro, ricco di tante cose, ricco di ricordi personali, ma ricco anche di emozioni e di considerazioni e riflessioni che bene fare, sia per chi è più grande e che può più facilmente reperire attraverso i racconti dei propri familiari, nonni, nonne, quello che è stato, quel momento, quella situazione anche delle donne e soprattutto un libro importante per tutte quelle generazioni che sono le più contemporanee, le più giovani e che è necessario abbiano un ricordo per poter poi avere una consapevolezza di cosa sono e di cosa è la strada e qual è la strada giusta da intraprendere per poter essere sempre consapevoli di se stesse. Alla prossima! Alla prossima!